Presidente Berlusconi, tornato all'Aquila, che città ha visto sfilare sotto i suoi occhi oggi? Guardi, non ho avuto modo di passare per il centro, però ho sempre seguito con molta attenzione la ricostruzione che si stava facendo e ho dovuto notare purtroppo che mentre i privati sono stati capaci di ricostruire con tempi assolutamente ristretti, questo non è accaduto per l'istituzione pubblica e quindi me ne spiace molto, così devo dire per connessione di situazioni, mi spiace molto del fatto che oggi nel centro dell'Italia, dove abbiamo avuto un terremoto più di due anni fa, ci siano ancora molte famiglie, molte persone mal sistemate in baracche con scarso riscaldamento che ancora soffrono di ciò che il terremoto ha provocato. Ecco, qui noi abbiamo dato un esempio totalmente diverso, siamo riusciti in meno di cinque mesi a consegnare delle case antisismiche, sicure, molto ben fatte, dentro dei quartieri organizzati con area verde, giochi per bambini, eccetera, a più di 20.000 abruzzieri. Questa mattina sono stato invitato da queste famiglie, sono andato in una di queste famiglie, hanno voluto farmi vedere con orgoglio la casa, che era la casa che noi avevamo progettato e realizzato per loro, io mi ero interessato addirittura dei mobili, di tutto ciò che in una casa serve per abitarla subito, le lenzuole, i cuscini, le tovaglie, i piatti, i bicchieri. Avevo anche personalmente curato l'approbigionamento di viveri per due settimane a chi entrava e non doveva quindi anche dover pensare a procurarsi gli alimenti. Ecco, io sono stato accolto tra l'altro con grande vicinanza, con grande affetto da tutte queste persone, dal balcone di questo appartamento ho salutato la moltitudine di persone che nel giardino mi salutava, mi diceva ripetutamente grazie, grazie. Molte anziane signore hanno voluto baciarmi, abbracciarmi, sono andate di mezzo anche le mie mani, guardi qua, che sono state prese con troppa energia e comunque diciamo che la commozione in me è aumentata con questi rapporti, è sempre stato alto il pensiero che io ho mantenuto dentro di me di quella gente dell'Aquila, gente dotata di molta generosità e di molta forza che ha saputo affrontare con compostezza il dolore per le vittime, i cari scomparsi a causa del terremoto e che poi ha potuto anche e saputo riprendersi e ricostruire la propria casa e la propria vita. Quindi io dell'Aquila avrò per sempre un ricordo che mi accompagnerà fino alla fine. Non ero venuto qui perché da un lato non volevo che si dicesse che speculavo sul terremoto e dall'altro perché avevo sempre sentito che si preparavano delle manifestazioni contro di me, la storia dei due balconi caduti, ci avevano messo su dei pesi impossibili da essere sostenuti da un balcone, il fatto che si preparavano dei civili con delle cariole con dentro le macerie per far credere che fosse stata colpa nostra non aver raccolto quelle macerie. Quindi per questi due motivi non ho ritenuto di venire più qui da allora, adesso dopo questa nuova occasione di mia presenza qui ho finalmente la possibilità di pensare di venire ancora. perché voglio dire l'Abruzzo è la fine del mondo, avete tutto, avete il mare, avete la montagna e che montagna, avete un clima meraviglioso, avete il verde che più verde non si può, il 36% del vostro territorio è a verde protetto, avete i grandi parchi, avete le città dell'arte, avete anche la vita media più elevata in Italia, avete il numero minore di tumori in tutte le altre regioni italiane, c'è una cosa che è stata segnalata dal 61% negli abruzzesi nell'ultimo sondaggio della Tecne, e cioè la preoccupazione per i pochi posti di lavoro e il fatto che i vostri figli, molti ragazzi, uno su tre, devono andare fuori dall'Abruzzo per cercare lavoro. Oggi nell'albergo dove sono stato c'erano due camerieri che venivano, due bei ragazzi, bene, restano qui, non hanno trovato di meglio, percepiscono uno stipendio di 1200 euro, certamente non proporzionale al loro aspetto fisico, alla loro preparazione scolastica, e anche alla loro capacità, erano veramente perfetti in quello che dovevano fare. Ho preso i loro numeri di telefono, vedrò se potrò, ma è ancora un chiamarli fuori dall'Abruzzo? No, dobbiamo far venire qui delle imprese in più. Come si fa? Primo, fiscalità di supporto, di vantaggio alle imprese che sono uscite dall'Abruzzo dopo il terremoto, se ritornano qui avranno sui loro investimenti, penso, immagino, 25-30% di apporto da parte del governo della regione o dal governo centrale. Due, premio di qualità alle imprese qui che investono, anche queste con una partecipazione ai loro investimenti. Tre, per i giovani e anche per le persone anziane oltre 55 anni, consentire all'azienda di assumerli senza dover pagare le tasse e i contributi. Detassazione, decontribuzione completa, che significa contratto di apprendistato per tre anni e contratto di impiego per altri tre anni, che costa all'azienda quello che dà e che riceve di netto il nuovo assunto. Un vantaggio enorme. Invece, per quanto riguarda le persone anziane che hanno perso il lavoro e che con difficoltà ancora maggiore dei giovani cercano un altro loro e non lo trovano, l'assunzione ancora senza tassazione. Per quelle persone che sono vicine alla pensione non credo sia possibile sperare in un provvedimento che tolga i contributi pensionistici. Ecco, queste sono le azioni. Poi bisogna naturalmente intervenire sui collegamenti. Stamattina ho sentito che la ferrovia Pescara-Roma, Roma-Pescara, oggi impiega quattro ore e mezza, non ci credevo. Quindi c'è un treno alla mattina che ritorna da Roma alla sera, ci va solo chi ha tempo da perdere, pensionati, eccetera. Ecco, lì bisogna intervenire. Ho sentito che quel progetto che avevo presentato io di allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara non è stato effettuato. E questo incide fortemente sulla possibilità che certi aerei di una certa dimensione non possono avvenire. Terzo, ho saputo che non si sono fatte opere di ammodernamento nella rete autostradale e nelle altre rete stradali che erano all'avanguardia quando sono state fatte, ma che adesso hanno subito l'affronto del tempo. Quindi anche lì bisogna fare degli investimenti. Poi, altra cosa importante, bisogna intervenire per spendere i soldi dei contributi europei. Perché se non si spendono entro qualche tempo, l'Europa se li riprende indietro. Ho suggerito la promozione di un comitato, fatto anche da imprenditori abruzzesi, che indichi e sia vicino al prossimo governo per impiegare questi contributi. E infine ci sono troppe persone che devono lasciare l'Abruzzo per curarsi altrove o per appunto lavorare altrove. Per curarsi altrove. Mancano 2.000 persone tra medici e paramedici nei centri sanitari. Bisogna assolutamente rimediare. I tempi che mi hanno detto per una visita specialistica e per un attack sono assolutamente inaccettabili. Il 10 di febbraio si vota in questa regione, il centrodestra si presenta compatto. Può essere un segnale importante anche sugli scenari nazionali? Il risultato delle elezioni regionali sarà influente anche sulle elezioni per l'Europa. E le elezioni dell'Europa sono assolutamente importanti perché non riguardano soltanto quello che potrà accadere qui in Italia, dove io spero in un cambiamento del governo e in un governo del centrodestra. Io sono tornato alla mia bella età in campo dopo molti pensamenti, mi sono sentito il dovere, la responsabilità di farlo per questi due motivi. Punto primo perché l'Italia corre con i 5 stelle un grave pericolo. Sono loro che si dichiarano comunisti, dicono noi siamo comunisti non da salotto come quelli del PD, ma siamo comunisti da strada, quindi rappresentano il peggio di quel comunismo contro il quale io scesi in campo nel 94-25 anni fa. E poi subiscono una maggiore spinta dall'invidia sociale e hanno dentro di loro un odio verso tutti coloro che sono riusciti, col lavoro, col sacrificio, col risparmio, a crearsi una posizione di benessere. E poi quello che hanno di peggio, di molto peggio rispetto ai comunisti di allora sono assolutamente inesperti, incompetenti, incapaci, molti di loro non hanno studiato, non hanno mai lavorato e io non riesco a capire come si possa pensare che gente simile possa prendere in mano l'azienda Abruzzo o l'azienda Italia. E quindi il pericolo che corre l'Italia è ancora molto grave. Io giustifico il voto del 5 marzo perché molti italiani, quelli che io chiamo l'altra Italia, che sono molto simili a noi, persone di buona volontà, di buon senso, che amano il lavoro, che amano la famiglia, che amano l'Italia, che erano veramente arrabbiati nei confronti della politica, nei confronti dei governi che si sono succeduti senza essere stati eletti. Ricordo che l'ultimo governo eletto dagli italiani è stato il nostro governo del 2008. Le cose che questo governo ha fatto o non ha fatto e quindi molti hanno deciso di restare a casa. Cosa serve andare a votare se poi si fa tutto il contrario? E molti sono andati a dare un voto di protesta, di dispetto e quindi hanno creduto di trovare in un nuovo movimento qualcosa che potesse essere lontano dalla politica politicante contro cui loro ormai erano posizionati. Ecco, io penso che queste persone, vedendo quello che è successo e che sta succedendo al governo, perché succede tutto il contrario di ciò che avevano annunciato. Avevano annunciato più posti di lavoro, col decreto dignità, hanno difficoltato per le aziende la continuazione di altri contratti a tempo indeterminato. Non parliamo di quello che succede nella giustizia, perché sono ferocemente giustizialisti e addirittura un PM potrebbe, di fronte a un semplice indizio, restare una persona e sequestrare il suo patrimonio, come è già successo alcune volte. Ecco, hanno trasformato la presunzione di innocenza garantita dalla nostra Costituzione in presunzione di colpevolezza, quindi il pericolo è grave. Questo è il primo motivo per cui sono scesi in campo. Il secondo è perché dobbiamo far contare ancora, come fecero contare i nostri governi, il ruolo dell'Italia in Europa. Dobbiamo da un lato cambiare l'Europa, passare da questa Europa dell'austerity, dei burocrati, dei ragionieri, dei contabili, all'Europa dei padri fondatori. Un'Europa che pensi allo sviluppo, alla crescita. Due, dobbiamo riprendere il sogno dei padri, il progetto dei padri fondatori per fare sì che l'Europa conti nel mondo. Oggi non conta niente l'Europa, perché ritorni a contare bisogna avere un'unica politica estera, bisogna unificare le forze militari di tutti gli Stati europei. Così diventeremo potenza militare mondiale, che può sedersi al tavolo delle altre potenze militari per decidere i destini dei popoli del mondo. Poi il futuro. Oggi la situazione mondiale è questa, l'Europa non conta niente. La Russia non può fare nulla, anche se hai il leader numero uno, il più bravo di tutti, perché è una potenza militare ma è economicamente soltanto del dodicesimo posto. Gli Stati Uniti, che avevano il ruolo di garanzia e che pensavano all'espansione del libero mercato, all'espansione della democrazia che veniva dal libero mercato, alle situazioni che potevano portare a delle guerre. Trump si è tirato indietro, ha detto una cosa che non ci riguarda, pensiamo a noi, pensiamo agli americani. E allora sta venendo fuori l'impero cinese, che ha intenzione di mettere le mani sull'Africa, che ha dichiarato di voler mandare 300 milioni di cittadini cinesi in Africa nei prossimi 15 anni, che sta facendo costruire tutte le infrastrutture pubbliche da sue aziende a partecipazione statale e che ha una filosofia, una regola di governo antitetica alla nostra. Tanto noi, grazie alle scoperte, alla creatività della Grecia, di Roma, della tradizione giudaico-cristiana, abbiamo una democrazia che vede lo Stato di diritto, che vede la primazia del cittadino sullo Stato, che è il cittadino che deve essere garantito dallo Stato e non viceversa, che vede lo sviluppo del benessere. Ecco, di fronte a tutte queste cose, che sono i valori di cui noi siamo custodi in Italia e in Europa, là c'è una regola che dice, dopo le tante dinastie che si sono succedute per secoli, che dice che il potere è di chi ha il potere, che può decidere su tutto e su tutti. E il famoso capitalismo comunista, altro non è, che è una partecipazione dello Stato in tutte le imprese, con diritto di blocco di ogni iniziativa, con diritto di intervento per gli aumenti di capitale e con una decisione praticamente su tutto ciò che riguarda l'azione della singola azienda. Ecco, vogliamo che i nostri figli, i nostri nipoti, gli italiani del futuro siano sottoposti a una regola di convivenza così fatta? Ecco, allora per questo io penso di andare in Europa e con il mio peso, con la mia autorevolezza, con la mia capacità di convincimento degli altri e del saper far sorgere tra me e i miei interlocutori, sì, ma rispetto anche magari a volte amicizia e affetto, di sapere individuare in tutte queste persone una vicinanza consapevole ai valori dell'Occidente, alle idealità dell'Occidente per poter fare dell'Europa un continente che ancora riesca a donare la sua filosofia al mondo. Grazie Presidente. Grazie molto a lei Direttore.